Sul matrimonio? 13-12-87 Il 13-12-87 Dove vi siete vissi la prima volta? Al mercato Al mercatino Dove è avvenuto il primo bacio? Sulla spiaggia Sulla spiaggia Chi ha fatto la proposta di matrimonio? Lui Ma ha proposto lei Dove è avvenuta la proposta di matrimonio? Oddio non me lo ricordo Quando stavamo... Stavamo a casa sua Cosa hai pensato la prima volta che l'hai visto? E' bellissimo questo me lo sposo Niente, perché stavo già con un'altra ragazza L'ultima volta che avete litigato? Litigi veri forse non abbiamo mai avuto Piccole discussioni ci sono sempre Non c'è stata l'ultima volta Avete mai avuto un periodo di crisi? No No La cosa che non sopporti dell'altro? E' testardo Parla troppo La cosa che ti ripete sempre? Parla di meno Amo, amo, mi ami La sua canzone preferita? Saltiamo Come mai Ma chi sarai Per fare questo me? Mandagli un bacio Cosa gli vuoi dire per concludere? Sei tutta la mia vita Come sei morbida Aplausos Grazie.